I carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze-Udine hanno consegnato 21 documenti provenienti dalle corrispondenze dell'On. Altero Spinelli con le istituzioni del tempo all'Historical Archivist of European Union di Villa Salviati a Firenze nel corso di una cerimonia che si è tenuta il 7 maggio alla presenza del direttore e dei comandanti dei Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze-Udine. L'indagine che ha portato a sequestrare questo importante gruppo di lettere era partita nel 2021 a cura dei militari fiorentini che avevano ricevuto un'attivazione investigativa dopo che era stata individuata la vendita sui canali di AsteOnline di una rara lettera dati lo scritta con firma autografata dell'allora ministro degli affari esteri Aldo Moro con Altiero Spinelli datata 1 agosto 1973. Il Codice Civile stabilisce che gli archivi e i documenti degli enti pubblici sono soggetti al regime del demanio pubblico e pertanto sono inalienabili. Di conseguenza tali documenti rientrano nella previsione normativa dei beni culturali che appartengono allo Stato ed enti pubblici.